L'associazione Essere Animali chiede a Lidl di prendere impegni concreti circa la tutela dei polli allevati nella propria catena di approvvigionamento. A novembre di quest'anno infatti l'associazione aveva già pubblicato, in esclusiva con Ray News 24, immagini raccolte in allevamenti di fornitori Lidl in Italia, che svelavano condizioni preoccupanti e sofferenze estreme per i polli. E proprio ieri sono state rilasciate in tutta Europa nuove immagini che riguardano un fornitore in Austria. L'ultima inchiesta uscita è stata rilasciata proprio tre giorni fa, ovviamente anche da Essere Animali in Italia, e riguarda un fornitore in Austria, dove si vedono proprio operatori che passano sopra i polli con le macchine, quindi li schiacciano, dove si vedono animali sofferenti, cadaveri abbandonati in mezzo ad animali ancora vivi. Ovviamente tutte le inchieste che abbiamo fatto, tra cui quella italiana che è stata realizzata proprio da Essere Animali, raccontano una delle problematiche principali che è quella delle razze a rapido accrescimento, che sono quelle razze di polli, cosiddetti broiler, che presentano una crescita esponenziale, accelerata, estremamente pericolosa per la loro salute e che provoca a questi animali delle sofferenze estreme. Questi video arrivano dopo altre inchieste rilasciate in Germania, Spagna e Italia, che hanno mostrato gravissime carenze, maltrattamenti e condizioni insalubri per gli animali. Oltre 20 ONG in tutta Europa chiedono a Lidl di sottoscrivere lo European Chicken Commitment, una serie di criteri minimi di benessere animale formulati per ridurre la sofferenza dei polli. La richiesta fondamentale contenuta nello European Chicken Commitment, che è questo accordo internazionale che molte aziende, tra cui anche aziende italiane come Carrefour Italia o il produttore Fileni, hanno già deciso di adottare, includono il fatto di passare dalle razze a rapido accrescimento alle razze a lento accrescimento, che sono razze con indicatori di benessere animale più elevate e sono razze fondamentali per garantire in qualche modo quegli standard minimi di benessere animale all'interno degli allevamenti.